Ebbene sì, con questa bellissima barba da quarantena, chiuso nella mia casa casetta, apriamo un nuovo gioco, questo. Vediamo com'è. Mario Zucca è questo. Oggi pronuncerò il tuo nome piccolo. Certo che Mario Zucca, Mario Zucca. Abbiamo fatto una tournée tre anni fa insieme. Ulisse, io facevo Ulisse, io facevo Antino. Bello. Di solito è la madre a fare l'annuncia, se solo l'avessi. Ok, io comincio a giocare. Una figata sto gioco però. Oh, sarò vecchio io, c'ho la PS4 da poco, ma mi sembra tutto così figo. Ok. E adesso che facciamo? Siamo in una grotta. Ok. Ma come? Non ci sono i topi. Entra nella caverna. Noi ci siamo entrati nella caverna. Ma sto uscendo, sono già uscito. Sembra stretto. Sembra stretto. Non posso farcela. Ma sì che ce la facciamo. Premi quadrato per chinarti o alzarti. Molto bene. Ah, ok. Ok. Ah, però adesso sembra tutto... Ecco. Pensa se era notte. Pensa se erano le tre di mattina e io che cagotto mi piglio. Ok. Vediamo un po'. Ma non sono scale, non c'è. Quindi sono di nuovo davvero prima. Occhio, ti arriva una stalattita in testa. No. Sì, di qua, 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 di qua. Di qua. No, se torno indietro no, eh. Non lo accetto. Dov'è la persona morta? Ah. Sì, è una cosa che è logica. Esamina lo strano dispositivo. Secondo me questo qua era l'igienista che c'è ancora in mano là, il parecchio. Vedi il... Adesso si gira. Ehi, ma è un Bluetooth. Quello è Bluetooth. Vediamo un po'. Io passerei volentieri di qua. No, però tornare indietro non c'è tanta voglia, eh. Io te lo dico subito. Ma noi siamo arrivati dall'em... Questo cos'è? Rost non vuole che vada in posti del genere. Rost non vuole che vada in posti del genere. Ma Rost non sa che qui c'è un videogioco, quindi... Quindi Rost è un po'... Allora, allora... Ma cos'è? Uno studio dentistico questo da prima. Sembra un po' un... Sì. Sembra un posto dove ti fanno l'igiene dentale. Allora, di qua si torna... Dove eravamo prima? Ma ci sono cose da raccogliere, oggetti... Un topo luminoso! Va bene, siamo tornati qua. Ok, fantastico. Questo bellissimo gameplay che vi ho regalato. Credo di essere uno dei migliori giocatori fra i primi cinque, sicuramente, del... Del palazzo, forse. Fra i primi otto del palazzo, siamo in sei, per cui... No, non siamo in sei. Ragazzi... Il gioco è fighissimo, ma devo ancora capire bene come funziona. E tra l'altro fra un po' arriverà anche il mio personaggio, per cui... Cioè, fra un po' non lo so, magari fra un sacco. Però qua ho fatto un personaggio piccolo, proprio piccolo! Ma poi giocherò a Destiny. E lì il personaggio è grosso, perché è il Ramingo. Che, insomma, chi ha giocato a Destiny 2, credo sia, questo ben conosce. Ci vediamo al prossimo gameplay.